Area recintata, nel parcheggio si intravede una gru che sembra proprio, come dire, parcheggiata. Dall'esterno stamane non si scorge alcuna attività, eppure a Venafro i lavori di riqualificazione della palestra comunale sono iniziati da circa un mese. Si tratta di una messa in sicurezza con alcuni interventi tesi a migliorare la fruibilità dell'impianto per atleti e spettatori. Rimarca ai nostri microfoni l'assessore ai lavori pubblici, Marco Valvona. I lavori sono iniziati da un po', non tantissimo tempo, credo un 30 giorni di lavoro effettivo. La durata di questi lavori, quindi la scadenza è prevista per quest'autunno, la fine dell'autunno. Ci auguriamo che possa essere tutto pronto alla ripresa dei campionati sportivi che in città si svolgono e sono anche numerosi ed importanti. Non è un lavoro ex novo, è un lavoro di messa in sicurezza e di ripristino di una proprietà già esistente del comune di Venafro. Quindi quella palestra verrà migliorata, verranno installate delle gradinate, spalti per poter assistere alla partita che prima erano completamente assenti, verranno rifatti tutti quanti i servizi e tutte le zone di servizio e ovviamente verrà migliorato lo stato strutturale e anche quello termico, quello energetico. Ciò non toglie che a Venafro resta comunque la necessità di avere un'altra struttura nuova, una struttura più moderna, una struttura che ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze a poter realizzare, recuperare il finanziamento per poterla realizzare. Il progetto di Massima esiste, è un progetto sul quale si è già lavorato nella scorsa consigliatura. Devo dire il vero, questo è l'unico gruccio che mi porto dietro dagli scorsi cinque anni, cioè questo è l'unico finanziamento che noi non siamo riusciti ad ottenere. Un finanziamento che purtroppo non è stato possibile reperire nemmeno attraverso i fondi del PNRR, perché per le strutture sportive e le attrezzature sportive purtroppo il PNRR è molto carente. Per quanto riguarda l'eventuale nuova localizzazione sono due le ipotesi. Una è quella della zona dello stadio e del palazzetto già esistente, se come tutti sappiamo lì c'è un lotto di terreno molto ampio, la cui considerazione è stata già fatta nel corso del tempo e quindi ha le misure adatte per poter ospitare una nuova struttura con caratteristiche ovviamente migliori e più moderne e un'area un po' più lontana che potrebbe essere anche quella interessante poiché è già di proprietà del comune. Ma tornando ai lavori in corso alla palestra di via Pedemontana, laddove si andasse un po' più in là nei tempi rispetto all'inizio dei campionati, quali saranno le strutture a cui tra virgolette appoggiarsi? Allora, questa io credo che sia una decisione che va di sicuro lasciata alle società sportive che operano nei vari settori e nei vari sport. Ovviamente noi ci aspettiamo di non dare a loro questo genere di incompensa o nella peggiore delle ipotesi di dargliela per il più breve tempo possibile, sempre pensando al fatto che nel momento in cui ritorneranno lì dentro troveranno un ambiente completamente differente e completamente migliore.